Grazie Francesco, a più tardi noi riprendiamo la linea ma per uscire subito dai nostri studi andiamo in diretta a Rimini per vedere come la Riviera appunto si sta preparando all'estate. Mattia? Sì Anna Maria, siamo qui sul lungomare di Rimini e come vedi il tempo oggi è migliore rispetto ai giorni scorsi, ma l'estate sicuramente dal punto di vista del meteo non è cominciata nel migliore dei modi. E se a questo si aggiunge la crisi c'è qualche elemento di preoccupazione per l'estate turistica in Riviera, ma qui si è abituati a reagire sempre con intraprendenza e inventiva. Tra le strategie per continuare ad attirare i turisti ci sono sicuramente i grandi eventi, il primo è in programma già fra una settimana, la Notte Rosa. La grande festa che ormai è conosciuta come il Capodanno dell'estate è arrivata alla quarta edizione ed è sempre più ricca di appuntamenti. Tra poco insieme al nostro ospite vedremo dunque come la Riviera sia preparata per affrontare l'estate. Linea a voi. Grazie, grazie.